Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Oggi parliamo di salute con la presenza nei nostri studi dell'assessore regionale Nicoletta Veri, che ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Buonasera, assessore. Grazie a voi, buonasera a tutti i telespettatori. Perché con lei vogliamo fare un po' il punto sullo stato di attuazione del piano di prevenzione regionale, del quale abbiamo dato più volte informazione nei nostri servizi, nei nostri spazi di approfondimento. Fare un primo bilancio di tutte le attività che sono state messe in campo dalla regione, dalle sue strutture, dalle ASL, per cogliere una di quelle priorità strategiche che la regione si è data, non soltanto nell'assistenza sanitaria, ma anche nella prevenzione. E poi rappresenta, assessore Veri, anche un elemento che riesce a far risparmiare, naturalmente, soprattutto ad assicurare una migliore salute ai cittadini, ma anche risparmiare tutti noi dal punto di vista della spesa pubblica. Quanto è sempre più importante la prevenzione nell'ambito delle strategie politico-amministrative nella sanità? Sì, fare un punto sul sistema sanitario regionale della nostra regione Abruzzo è un punto importante, è un punto fondamentale, che contestualizza senz'altro un primo e dopo, perché purtroppo questo periodo è stato segnato dal Covid, che ha dato, è vero, uno stress test per quello che riguarda tutta l'innovazione tecnologica, la possibilità di mettere in atto i fondi del PNR, però ha portato quelle problematiche che purtroppo stiamo ancora affrontando oggi, come il recupero delle liste d'attesa. Il Covid ha messo anche in evidenza che il Dipartimento della Prevenzione dei vari presidi, ospedalieri, dei vari alzi, sono dipartimenti carenti di realtà, di strutture, di personale. E quindi abbiamo dato quel lancio, abbiamo dato quella riorganizzazione a tutto ciò che è la medicina preventiva, a tutto ciò che è la prevenzione. Abbiamo messo in atto un piano di prevenzione 22-25, che riprende le linee guida di quello nazionale, ma soprattutto cala nella nostra realtà abruzzese su un discorso di qualità di vita, su un discorso di che cosa significa prevenire. Prevenire significa ridurre l'incidenza delle patologie, prevenire significa ridurre i costi della sanità, ma soprattutto i costi socio-economico, perché quando si ammala, quando diventa invalida una persona, senz'altro questo ha un notevole costo sia sulla produttività che sulla sanità. Noi in questo momento parliamo di prevenzione, prevenzione primaria. Prevenzione primaria significa adeguarsi a quello che è un corretto stile di vita, quindi finalizzato a tutto ciò che è il movimento, a tutto ciò che è un'alimentazione sana, per poi arrivare a una prevenzione adeguata nei contesti lavorativi e anche nelle proprie case. Nei contesti lavorativi è importante, perché sono ancora tante le patologie che derivano dagli ambienti di lavoro, quindi mettere in atto tutta quella riorganizzazione che il piano prevede, che già abbiamo messo in atto, ma anche attraverso verifiche e controlle di quella che è la situazione della nostra regione, significa senz'altro poter portare quella salute adatta per tutti noi cittadini. In questo periodo, Assessore, ovviamente i temi che affrontiamo anche noi a livello di cronaca si riferiscono alle malattie stagionali, quindi all'influenza, anche alla ripresa del Covid, le campagne vaccinali sono ripartite anche con gli Open Day in questa fase. Questo è abbastanza ordinario, anche se purtroppo il Covid ci ha abituato a questa straordinarietà in questa fase. Quello che è mancato, e facevo riferimento proprio al periodo della pandemia, è stato il tema degli screening nella popolazione, gli screening di massa proprio per prevenire patologie che poi hanno dei costi ovviamente di salute innanzitutto, ma anche poi di sostenibilità da parte del sistema sanitario molto elevati. Ecco, a che punto si è nella ripresa degli screening da parte delle varie ASL? Sì, è importante sottolineare che nella nostra regione c'è una grande ripresa per quanto riguarda gli screening. I nostri corregionali hanno aderito a quelle che sono state le nostre campagne di sensibilizzazione per gli screening e per diverse patologie, quelle patologie complesse, c'è un'aderenza, anzi in alcune situazioni abbiamo ricevuto delle risposte anche maggiori a quelle che erano le nostre richieste in base alla fascia d'età. Questo è importante perché significa che sta passando quell'elemento di consapevolezza di quanto è importante fare uno screening, di non trascurare quelle richieste che arrivano attraverso la stampa, attraverso online, da parte di tutti i cittadini, da parte delle aziende, di recarsi. È importante continuare ancora a fare lo screening per quanto riguarda il colon retto perché ci sono ancora questa incidenza di queste patologie e quando si parla di patologie complesse bisogna ricordare che più delle volte sono quelle più subdule, più nascoste che non presentano sintomi. E' ancora importante lo screening. Lo screening della mammella ha avuto un'aderenza, diciamo, notevole, importante e questo senz'altro porta alla riduzione di quella che è poi purtroppo la patologia che comporta la patologia e quindi una riduzione di quelle problematiche complesse. Ecco, questi sono i casi in cui i cittadini sono chiamati, proprio convocati per lettera, attraverso appunto queste campagne dalla regione nelle varie strutture ambulatoriali dove vengono effettuati questi esami ma c'è anche la novità che è quella appunto inclusa in questo piano, anche nelle ultime strategie regionali, delle case di comunità, quelle su cui finalmente si cerca di risolvere l'altro, anzi forse il principale problema dell'offerta sanitaria che è quella riguardante il territorio. Sì, questa regione era carente di un piano territoriale, di una rete territoriale, abbiamo deliberato il nostro piano della regione. Vorrei sottolineare una problematica importante che abbiamo affrontato sia per la rete ospedaliera che per la rete territoriale, che è quella della conformità della nostra regione, della disomogeneità del nostro territorio in quanto abbiamo un percentuale di densità della popolazione distribuito su questo vasto territorio. Questo comporta sempre problematiche in quanto gli indicatori stabiliti da parte del Ministero sono indicatori che non tencono presente di queste grosse difficoltà. Così come abbiamo avuto la forza e il coraggio invece di portare avanti un piano della rete ospedaliera che va in questo verso, così l'abbiamo fatto per quanto riguarda invece ugualmente la rete territoriale. È una rete territoriale che si estende sul nostro territorio dando la possibilità di avere quella aderenza, di portare quella appropriatezza diagnostica su tutto il nostro territorio. Abbiamo istituito case di comunità, ospedali di comunità che realizzeremo entro il 2026 dove sarà preso in carica il paziente cronico. Insieme alla possibilità di gestire queste case con i medici di medicina generale, gli specialisti, i vari pediatri riusciremo a dare quella assistenza sempre più parcellizzata sulla nostra regione. Vorrei sottolineare anche l'importanza perché noi abbiamo dato, abbiamo stabilito attraverso questo piano la possibilità di costruire altre 32 case di comunità. Questo perché quelli indicati dal piano del Ministero non erano sufficienti per dare, ripeto, prossimità, assistenza di prossimità. E quindi questa attenzione, così come è stato fatto per i piccoli ospedali che non abbiamo messo in atto quella che era una richiesta da parte dei ministeri affiancanti, la cosiddetta chiusura o il ridimensionamento, ma abbiamo dato un'identità importante per quanto riguarda proprio una rete dell'emergenza. A questo vorrei aggiungere un altro elemento fondamentale che sono quelli dei track mobili. Ci sono dei piccoli comuni che non potranno avere una casa di comunità proprio per la densità della popolazione, ma avranno un track mobile, ossia un'unità mobile che permetterà nell'arco dei giorni, in alcuni mesi dell'anno, di poter effettuare quelle visite diagnostiche, quegli screening e quindi avere proprio nella piazza del Paese quest'unità mobile dove i residenti potranno recarsi. Lo stiamo mettendo in atto già da questi mesi. Abbiamo visitato diversi mesi, sono stati presenti per le visite in diversi già comuni della nostra regione. che attualmente sono prevalentemente presenti nella provincia di Pescara con un'affluenza notevole. Questa affluenza notevole sta portando sia alla riduzione delle liste d'attesa, ma soprattutto a quella capacità di poter effettuare quegli screening anche alle persone che non ancora erano preparate a questo tipo di indagine. Ecco, da sottolineare che si tratta di screening assolutamente gratuiti e che possono essere fatti proprio vedendo questo poliambulatorio mobile nel proprio comune senza impegnativa e senza alcuna prenotazione. Basta essere cittadini. Sì, è importante sottolineare questo e devo dire che questo messaggio sta passando perché abbiamo diverse richieste ogni giorno in questi comuni dove sono presenti queste unità immobili con un feedback molto positivo. Questo significa un'attenzione particolare al territorio. Quando viene, diciamo, sottolineato che ci sono questi disagi, questi disagi attraverso questo piano operativo permette di ridurre quelle che erano questi disagi. Ecco, mi piace proprio aggiungere nello specifico le prestazioni che vengono assicurate perché potrebbero interessare proprio molti cittadini che ci stanno seguendo. Screening mammografici, screening del colonretto, PAP e HPV test, visite dermatologiche, mappature dei nei, la spirometria e la visita cardiologica. Sono tutte prestazioni che vengono effettuate gratuitamente da questi poliambulatori mobili che le ASL hanno attrezzato secondo il loro calendario e che sono in azione proprio in questi giorni, proprio nel giorno in cui registriamo questo intervento, a Pianella nel Pescarese. Un ultimo aspetto prima di salutarci, Assessore, perché ovviamente un piano di prevenzione deve guardare anche alle nuove frontiere, anche alle malattie e alle situazioni di tipo critico che potrebbero riguardare la popolazione e la risposta del servizio sanitario alle stesse. Ecco, siete molto impegnati sul fenomeno dell'antibiotico resistenza. Su questo c'è grandissima attenzione, anche perché insomma anche il personale scientifico dei reparti di malattie infettive della nostra regione è stato messo a dura prova e comunque ha risposto benissimo con grandi competenze alla prova del Covid. E' che questa è la vera nuova frontiera della prevenzione? Sì, è vero ed è questo un elemento prioritario che abbiamo inserito nel piano della prevenzione e ha detto bene lei, è il problema del futuro. Purtroppo ci sono dati allarmanti da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità perché viene definita come la prima causa di morte nel giro dei 25-30 anni, nel massimo i 50 anni. Quindi è importante cominciare a lavorare con la prevenzione, così come noi stiamo facendo sia attraverso il piano, ma soprattutto siamo regione capofila a livello nazionale di progetti importanti proprio nell'ambito di questo tipo di problematica, portando avanti un'analisi attraverso l'informatizzazione, attraverso la capacità di avere i dati nella nostra regione. E devo dire che quest'allarme purtroppo è dettato da un uso che spesso e volentieri viene fatto dai farmaci, in modo particolare dall'antibiotico, così come è abitudine appena si ha un sindomo si prende l'antibiotico. Man mano questo antibiotico diventerà sempre di più, meno efficace, quindi si chiama antibiotico resistente, non avrà più quegli effetti, per cui avremo grosse difficoltà poi nella cura e nella gestione della patologia complessa che ha bisogno proprio di un antibiotico. Quindi l'invito è che ci sia un'aderenza e soprattutto un'appropriatezza di non farne un uso così come viene spesso gestito. E un altro elemento aggiungo allarmante è proprio quello dei virus, così come stavo dicendo, che c'è da parte delle indagini che stiamo facendo noi della nostra regione, dei virus che spesso e volentieri possono essere contratti anche in certi ambienti ospedalieri. Quindi un'attenzione particolare su quella che sarà la sanità del terzo millennio, una sanità che avrà un volto diverso, siamo in un momento di cambiamento, spesso si accusano alcuni elementi della sanità, ma la risposta è la sanità innovativa e quella che ci ha visto nell'investimento nei prossimi anni di fondi per quanto riguarda impegni sulla digitalizzazione, sulla informatizzazione e quindi sull'innovazione tecnologica. Bene, io ringrazio l'assessore Nicoletta Merier, abbiamo acceso qualche riflettore di informazione suppongo interessante per i nostri telespettatori sulle opportunità riguardanti la prevenzione, certo la sanità e tanti altri problemi e aspetti che vanno affrontati, comunque questo è uno di quelli probabilmente decisivi per il futuro dell'offerta di servizi da parte del Servizio Sanitario Nazionale e anche della domanda da parte dei cittadini. Grazie, arrivederci, assessore buona serata. Buonasera.